Sotto il sole, sotto il sole, di Riccione, di Riccione, sotto il sole, sotto il sole. In questo caso di Avellino perché ci troviamo ovviamente ad Avellino, metto Pep Canterino questa mattina per le previsioni meteo, che tempo farà visto che stiamo vedendo delle belle? Prima delle previsioni meteo dobbiamo fare i saluti perché mi hanno fatto un messaggino di salutare Benedetta da Londra, Sessi da Cagliari, poi salutare Ciacchi da Roma, poi tutta l'antica celateria e salutiamo Antonietta con il campione cenovese. Un saluto possibile ai tuoi signori. Ah, i tuoi fons, i tuoi fons. I miei fons che si possono accomodare in televisione. Tanto è in omaggio, è tutto gratissimo. Matteo Pep, intanto complimenti perché lei ha un meteo peppino giovanissimo questa mattina. Sì, un meteo peppino giovanissimo, l'ho trovato perché è il mister Morronzo ovviamente, non c'è, si è impegnato. L'ha sostituito Morronzo. L'ha sostituito Morronzo, io lo saluto con un bacione. Con un bacione, vuole chiedere qualcosa al mitico meteo peppino? Peppino è troppo roba buona. È roba buona signora? Sì, è troppo bravo. È bello che ha mangiato. Ah, è bravo. E com'è il tuo nome? Manuel. Manuel, sei emozionato per stare a fianco a una celebrità come meteo peppe? Yes, è pure del mio quartiere, Rione Mazzini, lo conosco molto bene. Mi ha perso crescere. Sei un tuo fan, un suo fan. Esatto, sì. Bravo, bravo. Come mantieni la cartina? La mantiene abbastanza bene, però ci darei un novellote. Un novellote. Un novellote, va bene così. Va bene così. Allora abbiamo chiuso. Iniziamo con le previsioni. Le previsioni, anzi proprio in questo momento mi hanno chiamato di salutare la signora Rosso. Come in questo momento hanno chiamato? Non ho sentito lo squillo io. Ah, era tutto a posto. Quindi riguardando le previsioni meteo, oggi parliamo che il tempo sarà buono, però un po' incerto. Perché durante il pomeriggio arriveranno delle pioce deboli, però tendenza a miglioramenti. di cui, se vedete, il satellitare porterà alta pressione, l'anticicolo dell'Azzorio che porterà il tempo buono e venditebile a circolazione ciclonica. Quindi in questo giorno abbiamo l'alta pressione che poi si rivolserà e si chiamerà Ulisse. 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 Si chiamerà Ulisse e porterà le temperature fino a 40 gradi. Va bene così. Va bene, dopo va bene. A metà settimana aumenta la temperatura. Viene Ulisse, sì. Sì, sì. Ulisse e farà il caldo, potete andare al mare. Va bene. Quindi saluto lo staff di Italia Nostra Prima TV e darò linea... La signora vuole sapere il tempo per domani. Pioverà. Domani, domani, qualche tempo la pioggia, poi migliorerò il tempo, e nei prossimi giorni è buono. È incoraggiante. A mercoledì a Taravanti siamo sempre bene. Eh sì. Va bene, noi salutiamo Manuel. Manuel, grazie per il contributo. Buona giornata a voi. E però la canzone finale. La canzone finale che fa così, sotto il sole, sotto il sole, di Riccione, di Riccione, sotto il sole, sotto il sole, di Riccione, lì nello studio.